Teenage Dreams in a Teenage Circus Rolling around like a cloud on the bus Buonasera a tutti e a tutti Questa sera siamo qui per passare una bella serata insieme Perché crediamo una cosa Che essere italiani, essere del Senegal, essere del Marocco, del Niger, della Nigeria Non è importante L'importante è essere insieme, conoscerci, apprezzarci, fare nuove esperienze E passare una serata insieme significa abbattere tutti quei muri mentali che non esistono Perché essere diversi è normale, non è una cosa strana E quindi l'importante non è darci una nazionalità Ma è stare insieme e stare bene insieme In pace, con amore, senza odio Perché alla fine noi cerchiamo tutti la stessa cosa Essere felici Che siamo italiani o straniere Io vi ringrazio E ora ci saranno una serie di interventi Di varie persone Che ci porteranno delle esperienze E proveremo a parlare insieme E poi passeremo con la musica e con il cibo Altotempio insieme E da due mesi sono qua Sennati adesso abbiamo Costa d'Avorio Gimaliane Ghana Sierra Leone E del Mali E sono iniziati a integrarsi Da due mesi sono qua Abbiamo l'avvocato che sta organizzando queste cose Allora un benvenuto a tutti Ringrazio quanti insieme a me hanno desiderato Questo incontro, questa serata Questo momento di accoglienza Momento di accoglienza della nostra comunità cristiana Che è aperta logicamente Secondo quello che è l'insegnamento Del nostro Signore, del nostro Dio Che abbraccia tutti La parola che mi è stata data a me questa sera È proprio questa Quella di un benvenuto E l'augurio di potervi sentire a casa E soprattutto sentirvi accolti Loro la Libia è come dire Un po' l'America dei nostri padri E purtroppo arrivano in Libia e trovano la Libia Destabilizzata politicamente E lì invece di trovare il lavoro A cui loro aspirano Spesso trovano persone Che questa è la storia in sintesi E chiaramente la mia è una semplificazione Ma è comune a tutti loro Trovano persone che li portano poi in Europa Spesso nei media queste cose semplici che vi ho raccontato Non si dicono Però la storia è essenzialmente questa Loro vogliono sostanzialmente raggiungere la Libia per lavorare Non trovano più lavoro Perché purtroppo ai tempi di Gheddafi c'era più lavoro C'era la possibilità della lavoro Oggi non più E quindi il vero problema oggi È creare le condizioni politiche Di equilibrio E anche degli investimenti economici Importanti da poter creare appunto Le condizioni a loro di ritornare nelle loro terre E poter lavorare Come fosse un tempo riuscivano a fare meglio Ai tempi appunto di Gheddafi La presenza degli immigrati sul nostro territorio È una realtà che va affrontata Non come un problema Ma come un momento per incontrarci È importante che ci sia un incontro Tra i cittadini di San Severino E questi ragazzi che provengono da altre realtà È importante in momenti come questi Perché così noi possiamo presentarci E cercare di conoscerci E possiamo fare in modo Che questi ragazzi che hanno affrontato Viaggio e ci hanno raccontato La loro esperienza terribile Possano conoscere la nostra realtà E imparare le regole del nostro modo di vivere E noi possiamo imparare A conoscerli E fare in modo che possiamo incontrarci Soltanto incontrandoci E conoscendoci possiamo convivere E noi possiamo incontrare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.